Ciao a tutti, vediamo in questo video 5 tecniche per rendere un uomo dipendente da te. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra tre i livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Adesso vediamo 5 tecniche per rendere un uomo dipendente da te. Intanto se un uomo è dipendente da te lui percepirà di essere innamorato, tieni presente però che la dipendenza non è amore, quindi sono due cose estremamente diverse, però diciamo che la dipendenza viene percepita dal maschio come amore, questo devi tenerlo presente, è fondamentale anche se di amore poi di fatto non si tratta. Quali sono queste tecniche? Beh la prima è diciamo creare un distacco quando lui manifesta più attaccamento, ecco quindi il distacco va fatto sempre quando lui manifesta più interesse nei tuoi confronti, non quando lui già si sta distaccando, vabbè allora devi farlo per forza, ma quando lui si dimostra che insegue inizia a fuggire un pochettino, creerai un po' di dipendenza. Seconda cosa, lascia diciamo del guest alta aperte, effetto Zeigernick, cioè di delle frasi a metà, non finirle, genera dei dubbi, questo genera una forte collegamento, una forte dipendenza, lasciare delle guest alta aperte è fondamentale per creare dipendenza. La terza tecnica è la cosiddetta tecnica della goccia cinese, che cos'è la tecnica della goccia cinese? È diciamo goccia dopo goccia ogni giorno, magari gli mandi un messaggio, due messaggi, poi insomma vai goccia dopo goccia a mandare sempre dei messaggi e creare un collegamento, no? In modo tale che si crea di fatto un'abitudine attraverso appunto goccia, cavat, plavat, quindi goccia dopo goccia crei questo collegamento e poi smetti. Nel momento in cui smetti, beh il dubbio perché fa questo, perché è capitato questo, se lo chiede sicuramente questo ti permetterà di avere dei grossi vantaggi da questo punto di vista. Il vantaggio sicuramente di essere, il vantaggio ti darà il vantaggio di non essere, diciamo, gli crei un vuoto, gli crei una sorta di vuoto per cui tenderà a inseguirti. La tecnica della goccia cinese è molto utile, molto interessante per conquistare diciamo un uomo. E poi abbiamo un'altra tecnica che è il rinforzo intermittente. Il rinforzo intermittente è un'altra tecnica molto interessante di cui ho già parlato che sono delle gratificazioni ma saltuare, delle gratificazioni che non sono mai presenti, diciamo, non sono mai prevedibili. Ecco, non sono mai prevedibili per cui questo crea un coinvolgimento, anche un coinvolgimento forte da questo punto di vista. E l'ultima tecnica, la quinta tecnica è, diciamo, la penalizzazione emozionale, o per meglio dire, la penalizzazione logica che corrisponde alla gratificazione emozionale, vuol dire andare a ravanare, diciamo, a fare scarpetta tra i suoi turbamenti. Quindi farlo parlare di quelli che sono i suoi turbamenti, di quali sono le sue cose, cercare di tirarli fuori, cercare di amplificarli. Questo crea dipendenza perché la parte emotiva ti vede come una fonte erogativa di cariche emozionali, di tensioni emozionali. Noi sappiamo che la parte emotiva si coinvolge quando ci sono delle tensioni, quindi si innamora. Quindi queste cinque tecniche sono fondamentali per creare dipendenza in un uomo. Te le ricordo, la prima è distaccarti quando lui tende a inseguire, la seconda lasciare delle gas tratte aperte, cioè dei buchi, la terza la goccia cinese, ti do, ti do, ti do e poi paff, non ti do più niente. La quarta è il rinforzo intermittente, anche questa è molto utile, e la quinta, diciamo, l'amplificazione dei turbamenti, tirare fuori i turbamenti. E sono tutte tecniche che ti permetteranno, sono cinque tecniche molto potenti che ti permetteranno di creare dipendenza in un uomo. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivando la campanella se non l'ho ancora fatto così riceverai la notifica ai nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazioni, seminari dal vive, abbonamento Master Consulting e con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!